Grazie. Buonasera a tutti, bentrovati, grazie per essere qui, soprattutto a chi non sta viaggiando con noi, perché vuol dire che in qualche modo abbiamo stimolato la vostra curiosità. Io mi chiamo Antonio e io e Giorgio, ci occupiamo fondamentalmente di diffondere l'antroposofia in Italia. Chi non sa cosa è l'antroposofia è facilmente descrivibile come una corrente spirituale dell'inizio del Novecento, fondata da Steiner, Rudolf Steiner, e da circa tre anni abbiamo scelto questa missione di vita, ci dedichiamo completamente a questo e lo facciamo attraverso varie attività, tra cui conferenze, seminari, online, in presenza, abbiamo una comunità sperimentale, spirituale a Bo, in provincia di Padova, siamo in cinque, tra i 28 e i 38 anni e lì facciamo tante attività in tutti i weekend durante l'anno e da un paio d'anni abbiamo scoperto che alle persone piace viaggiare, quindi abbiamo scelto di unire questa nostra vocazione per portare le persone nei luoghi a visitare non soltanto il luogo fisico, ma collegarlo a tutto ciò che è un po' la scienza dello spirito da lontano, fino ad arrivare al simbolismo, all'esoterismo dei singoli luoghi. Giorgio vi parlerà del viaggio che stiamo facendo adesso, che è un viaggio dedicato proprio alla città di Milano, siamo arrivati venerdì, partiremo domani pomeriggio, ognuno per le sue case, sono persone che vengono da tutta Italia, se vi vai ad alzare la mano così, questo per far sentire la presenza, siamo in cammino già da venerdì e possiamo definire questi viaggi dei veri e propri pellegrinaggi. Siamo stati in Francia, in Egitto, in Italia abbiamo visitato la Torino esoterica, poi siamo stati in Puglia, Napoli, dove ritorneremo il mese prossimo, l'anno prossimo andremo in Terra Santa, faremo altri viaggi in Italia e sta andando bene, quindi siamo felici che questo progetto possa avere riscontro. Stiamo formando un gruppo giovani, qui ci sono dei partecipanti che inizieranno a gennaio e questa sera abbiamo scelto la libreria esoterica perché sappiamo che qui c'è spazio per qualcosa che, diciamo così, agli occhi di molti può sembrare strano, agli occhi di pochi invece è fondamentale per l'esistenza dell'uomo e quindi io vi ringrazio per essere qui, avete trovato sulla poltrona un libricino, chi non l'ha trovato dopo ricordatemelo che ve lo diamo, il nostro omaggio, poi se volete all'ingresso ci sono dei libri della nostra casa editrice che è uno dei vari filoni di questo progetto e sostenerci significa permetterci anche di continuare in questo lavoro. Quindi grazie e buona conferenza. Grazie, grazie. Benvenuti, buonasera e sono felice di essere qui alla libreria esoterica di Milano. Sono felice di essere qui alla libreria esoterica di Milano, quindi... Non c'è il microfono, qui in sala sentiamo la voce. E come forse avete letto il titolo di quello che era questo pellegrinaggio nella Milano esoterica è stato chiamato la luce segreta di Milano. Quindi aveva lo scopo, e ha ancora appunto lo scopo per tutta la giornata di domani, di trarre fuori quella che è una luce che pure è celata da quella che è la vita esteriore di Milano e che molti di noi conoscono, che hanno anche vissuto, in quanto in questo sottotesto ancora, diciamo, percepibile con dei piccoli particolari che abbiamo, siamo andati a ricercare durante il nostro pellegrinaggio, nostro tour nella Milano, nelle vie di Milano, è quello di appunto trarre una luce, una luce segreta. Il trarre la luce da quella che è una oscurità esteriore, nel senso di una tenebra rispetto allo stato di conoscenza di quello che è, e di coscienza di quello che è l'esoterismo occidentale. Quindi questa lettura che ha tratto fuori, ha voluto trarre fuori la luce segreta da Milano, in questa conferenza, che appunto molti di voi sono anche partecipanti di questo tour, di questo nostro pellegrinaggio, viene ribaltata. E quindi parleremo del segreto della luce, dalla luce segreta al segreto della luce. E questo segreto della luce ha a che fare con l'impulso che dall'antica Persia, nel corso di quello che erano, appunto, quello che chiamiamo in senso scientifico, spirituale, antroposofico, le epoche di cultura, è giunto dalla Persia fino a Milano, nella città di Milano, imprimendosi in quello che è l'atmosfera spirituale di Milano e che per avere un semplice riferimento, diciamo, architettonico e urbanistico, avete mai visto con occhi, diciamo, con occhi scevri dall'utilizzo che se ne fa la stazione centrale di Milano? La stazione centrale di Milano viene definita in stile assiro milanese. Questo stile assiro milanese è la cristallizzazione nel corso, diciamo, appunto, dell'epoca di costruzione di quello che nell'atmosfera di Milano è permeato come impulso persiano. Questo stesso impulso che è legato, per esempio, oggi eravamo a Sant'Eustorgio, al fatto che le reliquie dei Remagi furono trasportate da Costantinopoli fino, appunto, alla chiesa di Sant'Eustorgio. Inoltre, come sapete, ci sono anche dei riferimenti in epoca romana, quello che è il culto di Mitras, quindi il culto mitraico, e cercheremo di portare questi, questo, diciamo, questo, tutto questo, questa serie di aspetti, di forme che l'impulso persiano, quindi questo culto della luce, del sole, del fuoco solare, in cui si è trasformato ed è stato travasato di cultura in cultura, osservandone, cercando di concentrarci e osservandone alcune metamorfosi principali, quindi dall'antica Persia a venire ad oggi. Quindi questo è quello che, diciamo, andremo a descrivere. Quindi, come forse sapete, nell'ambito della scienza dello spirito antroposofica, il tempo, il tempo di quello che sono le epoche di cultura, di cui abbiamo detto, abbiamo accennato, è diviso in sette epoche di cultura, quindi una prima, una seconda, una terza, una quarta, una quinta, una sesta, una settima. Queste sette epoche di cultura formano nel loro complesso quella che noi conosciamo come quinta era post-atlantica o post-atlantidea. E che cosa significa? Che prima di questo momento, dell'inizio di queste sette, insieme di sette epoche di cultura, vi era la quarta era atlantidea. Quindi qua noi possiamo mettere l'Atlantide. a sua volta costituita da sette epoche che, diciamo, in un gergo un po' più teosofico, vengono chiamate le sette sottorazze atlantidee. Quindi questo, diciamo, questo nostro limite che segna e dà appunto il carattere a tutta quella che è la quinta era che viviamo ancora oggi, noi quindi siamo, se noi vogliamo collocarci, siamo in questa quinta epoca di cultura, è caratterizzato dal fatto che come si ha, diciamo, si ha la rottura delle acque nel parto, tutta quella che è, sono le sette epoche di cultura, la nostra era, l'insieme delle sette epoche di cultura, nasce nella rottura delle acque, che è il diluvio universale, il diluvio che viene descritto appunto anche come lo scioglimento dei ghiacci delle ultime ere glaciali, sono lo stesso evento. Quindi qui possiamo mettere il diluvio universale. Quindi tutta la nostra attuale evoluzione culturale nasce dall'evento, da un evento traumatico, che è appunto anche un evento però di nascita di una nuova forma della coscienza, da quella che era l'Atlantide a quello che è la nostra era. Questa serie di epoche sono anche chiamate le erastrologiche. Quindi quella che è la prima epoca, quindi prima culturale, la prima era astrologica, subito dopo il diluvio universale, è quella del cancro. Quindi in sequenza abbiamo cancro, abbiamo i gemelli, il toro, la riete, i pesci, l'acquario, scusate che la lavagna è fissata ma devo tenerla, e poi abbiamo il capricorno. Queste sette epoche di cultura sono chiamate anche palioindiana o antica indiana, l'alio persiana che è quella di cui ci occuperemo, l'egizio caldaica, la greco-romana, l'attuale, chiamata anche europea o dell'anima cosciente, la russo-slava o del sé spirituale, e la americana o dello spirito vitale. Quindi quello che vedremo è qualcosa che si situa nell'epoca paleo-persiana, quindi stiamo parlando di un periodo che va da 7000 anni fa, quindi 5000 anni prima del Cristo, che si situa all'incirca a metà dell'epoca greco-romana. Quindi tra quello che sono appunto 5000 e 3000 anni prima del Cristo. Quindi qui possiamo mettere 5000 e 3000 circa. Che cosa accade? Che dopo il diluvio universale, un grande guida dell'umanità, quella guida dell'umanità che era un grande iniziato dell'oracolo solare, conduce un gruppo di esseri umani per fondare tutta quella che sarà la quinta era dopo il diluvio universale. Questi sette, diciamo, che vengono scelti come i futuri fondatori, maestri fondatori di tutte le altre epoche di cultura, vengono chiamati i sette santi risci. Questi sette erano coloro che preservavano l'antica saggezza atlantidea, in cui ogni singolo oracolo, gli oracoli planetari di Atlantide, erano stati preservati in una loro forma intoccata rispetto a quello che era avvenuto, che aveva causato il diluvio universale, quindi la corruzione degli oracoli atlantidei, e l'aveva preservata per quella futura epoca, la nostra, la quinta era post-atlantica. Quindi quelli che sono i maestri della prima epoca di cultura sono i sette santi risci. Sono coloro che, da cui poi, diciamo, successivamente, nel corso delle successive epoche di cultura, verranno trascritti gli insegnamenti, gli verranno quelli che conosciamo come i veda, così come tutta la pratica dello yoga. Quindi, in questa antica epoca indiana, quindi stiamo parlando di qualche cosa che va sostanzialmente da 10.000-12.000 anni fa ad arrivare, appunto, a circa 5.000 anni fa, si passa all'epoca paleopersiana, ed è quello che in questo momento ci interessa. Se l'epoca indiana aveva come scopo quello di ritornare all'unione con la natura che si era sperimentato durante l'Atlantide, quindi lo yoga come unione, unione con quelle che erano le forze della natura, e quindi ritornare al mondo spirituale nel quale gli Atlantidei vivevano completamente immersi, l'epoca persiana ha una separazione di principi. Quindi da un principio unitario, da una necessità di ritornare in unità col mondo spirituale, si passa a un principio di dualismo. Questo è anche caratterizzante il fatto, diciamo, che tutta l'influenza dell'epoca paleopersiana è sotto la regione dei gemelli. Quindi si ha una separazione di due principi, si ha un principio luminoso e un principio di tenebra. Quindi che cos'era fondamentalmente l'impulso di cultura persiano? Era il fatto che quello che era un mondo spirituale vissuto come totalmente unitario dagli Atlantidei e nello sforzo dell'unione dall'epoca paleoindiana viene a separarsi in due principi. E questa è la grande dottrina di Zarathustra, il maestro dell'epoca paleopersiana. Quindi qui possiamo mettere il nostro Zarathustra. Qual era l'insegnamento di Zarathustra? Era che in origine il cosmo, è un insegnamento cosmogonico, il cosmo era un'unità. Immaginate un uovo. Questo uovo era costituito da un guscio unitario che era immerso nell'immanifesto, quindi in una notte cosmica non manifestata, e in cui si andava covando, si andava sviluppando quello che sarebbe stato il cosmo successivamente. Questo guscio erano i dodici segni dello Zodiaco, quindi il guscio di questo limite, di questo uovo cosmico, erano i dodici segni dello Zodiaco. Questo tempo veniva anche rappresentato nell'immagine del serpente che si morde la coda, con dodici stelle intorno, e questo veniva chiamato Zeruana Akarana o Zurvan. Abbreviato. Quindi l'eternità era una divinità chiamata Zurvan. Ma questa divinità unitaria aveva la necessità, questo era appunto nel mito cosmogonico, di conoscere se stessa. E per conoscere se stessa era necessario creare un'opposizione. Di conseguenza Zurvan si separa in se stesso, quindi immaginate come dentro un uovo troviamo da un lato il tuorlo e dall'altro l'albume, allo stesso modo si separa in due esseri che in principio sono uniti. No, sempre troppo. Una parte luminosa e una parte oscura, tenebrosa. Queste due metà inizialmente sono ancora unite, ma si differenziano. Una parte che tende a irraggiare e una parte che invece tende a concentrare. Quindi questa parte irraggiante è, diciamo così, più leggera, se volete, quindi è capace di una sua levità, quindi ha una tendenza espansiva da un centro, mentre invece quella che è l'altra parte ha una tendenza a concentrarsi nel centro, in un centro di gravità, e quindi ha un suo peso, una sua sostanza densa. Questi due principi, che dapprima appunto sono ancora uniti, vanno in separazione. Una parte che irraggia e una parte che invece concentra. Questa separazione di principi permette la paradossale conoscenza di ciò che era inconoscibile, cioè l'eternità. Queste due metà, abbiamo detto che questo cerchio è il cerchio dello zodiaco, sono due metà dello zodiaco. Quindi sono i cosiddetti segni di luce, quindi la parte irraggiante, e i cosiddetti segni di tenebra, la parte concentrante. Queste due parti sono costituite da i primi sei segni, quindi abbiamo l'ariete, abbiamo il toro, abbiamo i gemelli, abbiamo il cancro, il leone, la vergine. Arriviamo poi alla bilancia, e successivamente a quella che è la bilancia, abbiamo gli altri sei segni, invece, chiamati segni di oscurità. Quindi la bilancia fa da tramite tra i due. Non vi complico però la situazione, la bilancia comunque diventerà un segno di luce. Ma detto questo, quello che accade è che si separano in sei e sei. Dall'altra parte i segni dell'oscurità, quindi a partire dallo scorpione, passando per il sagittario, quindi arrivando a quello che è il capricorno, l'acquario e poi i pesci. Quindi immaginate che queste due metà vanno separandosi e nella loro separazione permettono un rapporto tra queste due metà dello zodiaco. Queste due metà a loro volta saranno appunto nella tradizione occulta chiamate, come ho detto, i segni di luce e i segni di tenebra, segni che sono stati completamente compenetrati da una coscienza solare e altri segni che invece sono ancora nell'inconscio lunare. Questi due esseri gli viene dato un nome, quindi l'insegnamento di Zaratostra, come vi dicevo, l'eternità veniva chiamata Zeruana Karana o Zurvan. Quello che è il, diciamo questo, questi due gemelli, il gemello della luce, il gemello della tenebra, hanno due nomi. Uno è Aura Mazdao, l'aura del sole, e l'altro è Angra Maniu, colui che rattrista, che diciamo che crea tenebra. Questi due esseri vengono chiamati anche Ormazd e Ariman. Ormazd, per chi diciamo approfondita l'antroposofia, è chiaramente quello che noi chiamiamo il principio del Cristo, mentre Ariman è il principio della materia. Questi due, diciamo, questa divisione in questo principio di luce, in principio di tenebra, lo ritroveremo poi anche nel cenacolo di cui parleremo successivamente, perché è legato a questa dinamica, questa dinamica di separazione e processo di riconoscimento, quindi di diventare completamente coscienti nell'io sono, processo dell'anima cosciente. Questa separazione ha però un risultato, il fatto che non solo era una cosmogonia, ma rispondeva a una necessità di uno stato di coscienza. Tutto quello che erano i misteri che venivano coltivati, quindi sia i misteri dei rishi avevano a che fare con la necessità dell'antico indiano di ritornare al mondo spirituale atlantideo, l'unione con gli spiriti della natura, le divinità della natura. Quello che invece vive nel persiano è che il persiano ama la luce, quindi anela a unirsi alla luce e teme la tenebra. Ne abbiamo parlato anche ieri e quando il bambino in quello che è diciamo la sua crescita teme l'oscurità sta ricapitolando lo stato di coscienza che l'antico persiano aveva nel percepire l'oscurità come quella forza che addensando, chiudendo nella materia dissolve quell'elemento animico dell'essere umano. Quindi è la paura di completamente essere annichilito conchiuso all'interno dell'oscurità della materia. Quindi cosa accadeva che gli antichi persiani si rivolgevano continuamente al sole e volevano rimanere solo in relazione col sole. Ma Zarathustra compie qualche cosa che ha a che fare col passaggio successivo di questa cosmogonia ovvero che Ormast non era destinato a rimanere semplicemente diciamo quel quell'elemento irradiante separato dall'oscurità ma comincia a discendere all'interno dell'oscurità per operare una trasformazione dell'oscurità dall'interno. Quindi in questo senso Ariman è la materia il mondo materiale e quindi Ormast è il mondo spirituale quindi il mondo spirituale il mondo della luce entra al mondo dell'assoluta coscienza entra nel mondo della materia e dall'interno opera una trasformazione quindi da un lato ci sono le forze appunto di densità che vorrebbero cercare di sopraffare la luce ma la luce non viene sopraffatta ed anzi viene a formarsi un elemento mediano questo elemento mediano è la restituzione della luce dalla tenebra cioè la tenebra accoglie la luce viene trasformata interiormente e restituisce la luce in una nuova forma questa forma è il mondo vegetale quindi le piante tutto quello che sorge dalla terra sarà come elemento vegetale quindi la terra che è tenebra con la luce del sole restituisce nella sua trasformazione dei raggi di sole resi vivi resi vivi nella materia organica il mondo delle piante questo processo non solo era un processo di appunto coltivazione ma era un processo che portava alla trasformazione della cultura persiana quindi cultura e coltivazione hanno la stessa origine Zaratustra è il fondatore di quello che noi chiamiamo la coltivazione e l'agricoltura in un senso più moderno è colui che metterà in atto tutta quella che viene chiamata nell'ambito dell'antropologia la rivoluzione neolitica quindi Zaratustra che chiaramente è uno Zaratustra Steiner dice Zaratustra ha avuto sette incarnazioni prima di quella greco-romana che è la sua ottava incarnazione narrata nel Vangelo di Matteo queste sette incarnazioni che ha avuto prima del Cristo sono servite a Zaratustra per avere diciamo il distillato di tutte quelle che erano le conoscenze dei sette santi rischi quindi in lui si riversano progressivamente questa saggezza degli oracoli atlantidei e viene restituita come un impulso che trasforma la terra questo impulso quindi porta una rivoluzione culturale durante quella che è l'epoca paleopersiana si differenziano all'interno di quello che è appunto in generale possiamo chiamare gli antichi persiani due popolazioni i turani e gli irani quindi i turani erano delle popolazioni che avevano mantenuto la chiaroveggenza atavica che quindi gli derivava ancora dall'Atlantide erano legati più alla Siberia quindi al nord ed erano dei popoli nomadi quindi quando andavano diciamo in giro per i loro territori prendevano quello che potevano dalla terra e non lasciavano niente perché poi si spostavano in un altro posto e di conseguenza non si occupavano della trasformazione dell'elemento fisico sensibile così diciamo da questo impulso che tendeva a prevalere Zarathustra ispirò uno dei re mitologici di quelli che poi diventeranno gli irani chiamato Yamshid e dona Yamshid un oggetto questo oggetto che è il raggio di luce di Ormazd un pugnale d'oro quindi Zarathustra dona a Yamshid questo pugnale d'oro e gli mostra che tagliando la terra quindi aprendo un solco nella terra ponendo i semi nella terra lasciando che la luce del sole penetri nell'oscurità è possibile trasformare l'elemento terrestre e trarne la vita per stabilirsi in un luogo e quindi non essere più nomadi cambiare il proprio stato di coscienza e portarlo verso ciò che sarebbe stato l'accoglimento progressivo dell'impulso cosmico del sole spirituale che andava verso la discesa e che si sarebbe incarnato con quello che è chiamato il battesimo nel Giordano ai 30 anni di Gesù di Nazareth quindi questo impulso poi siamo appena tornati dall'Egitto lavorerà ovviamente anche nel culto solare egizio con tutta una serie di vicissitudini che però diciamo non sono l'oggetto di questa di questa conferenza questo impulso che doveva essere portato avanti per preparare l'incarnazione nel fisico in un singolo essere umano del Cristo quindi colui che chiamiamo Cristo Gesù al momento dopo il battesimo nel Giordano ha una sua successiva incarnazione l'impulso di Zaratustra ha un'incarnazione successiva in quello che è il terzo secolo dopo Cristo in questa incarnazione di questo impulso Zaratustriano di questo impulso appunto del segreto della luce quello che accade è che quello che era un principio cosmico di cosmogonia che ha lavorato quindi nella in forma soprattutto nell'incosciente in quello che era l'essere umano ha lavorato principalmente sul corpo astrale degli antichi persiani torna in una nuova forma questa nuova forma è la prima rivelazione dell'impulso dello Spirito Santo dopo il mistero del Golgotha quindi dopo gli eventi che vengono descritti dalla Pentecoste in poi questo impulso è chiamato la religione della luce quindi vedete lo spostamento da qualche cosa che era un impulso culturale quindi che poteva essere preso come coltivazione della terra allo stesso tempo una coltivazione del terreno dell'anima interiormente del corpo astrale diventa qualche cosa che comincia a lavorare ad un livello spirituale questo grande iniziato il più grande iniziato Steiner lo definisce il più grande iniziato di tutti i tempi colui che fu il la guida spirituale della scuola Rosa Croce in un senso appunto dal mondo spirituale è Manes o Mani il fondatore della religione della luce o Manicheismo Manes riuscì sempre in Persia a appunto portare questo rinnovamento dell'impulso di Zarathustra quindi noi possiamo anche mettere diciamo un collegamento attraverso mistero del Golgotha con Manes e questo ebbe una trasformazione quindi qual è stata questa trasformazione la trasformazione ha a che fare con lo spostamento come vi dicevo da quello che era il corpo astrale quindi che era il principale diciamo oggetto di lavoro incosciente da parte di Zarathustra su quello che sarà l'anima razionale o chiamata anche razionale affettiva quindi cosa vuol dire questo da un punto di vista diciamo sostanziale al di là dei termini significa che Manes lavorava al fine di portare l'impulso trasformativo delle culture come forma di come processo di formazione di comunità quindi cosa accadeva che Manes che era riuscito a introdurre quello che era la religione della luce in tutto l'impero persiano che all'epoca si è stese pensate fino all'India e fino alla Cina riuscì a portare una religione completamente universale ovvero il manicheismo poteva non aveva necessità di soppiantare le altre religioni ma era una se volete un'aggiunta un'estensione dei principi di qualsiasi religione e quindi Manes aveva come suoi predecessori quelli che era la conoscenza diciamo indiana poi travasata nel Buddha Zarathustra e lo stesso Gesù di Nazareth quindi Manes aveva coscienza peraltro di essere portatore di questo impulso della Pentecoste veniva riconosciuto e chiamato come lo Spirito Santo vivente e portando questo suo impulso formava comunità quindi cosa cambia cambia che passando appunto a un arto animico all'anima razionale Manes istituisce un processo per il quale si andava in un territorio in questo territorio venivano portati diciamo tutte quelle che erano le conoscenze di Manes stesso che erano conoscenze legate nuovamente a come coltivare facendo sì che la luce che era contenuta nella sostanza terrestre potesse venire liberata nuovamente nel mondo spirituale quindi tutto l'impulso di Manes è volto a creare un'atmosfera un atteggiamento interiore per la quale albeggiando appunto la coscienza in quello che erano gli uomini si potesse continuare il processo di coltivazione della terra ma rimanendo uniti allo spirito quindi per esempio ci sono degli delle preghiere manichee che descrivono e anche delle leggende che descrivono questo di come Manes potesse per esempio udire la voce dei vegetali quindi quando Manes insegnava diciamo questa religione della luce era un'applicazione pratica di quello che altrimenti sarebbe stato un processo inconscio cosmogonico che aveva lavorato nella precedente epoca paleopersiana quindi Manes portando queste preghiere pensate ci sono delle preghiere per parlare alle piante far sì che potessero essere estratte dal terreno senza che provassero dolore ci sono per esempio altri diciamo altri scritti in cui descrive come preparare il cibo in modo da mantenere la luce la luce di Ormazd chiameremo noi quindi la luce del Cristo integra nel processo di trasformazione degli alimenti questo diciamo questo suo impulso viene colto e si stabilisce in vari soprattutto in Oriente quindi in vari luoghi pensate che tutti quelli che erano i templi manichei che poi assumevano le forme della religione presente sono stati poi successivamente eradicati da una furiosa diciamo distruzione sistematica dell'impulso manicheo per avere un ritorno allo zaratustrismo puramente formale quindi si ebbe al momento del cambio di reggenza nell'impero persiano quindi cambiati i favori diciamo il manicheismo comincia la sua grande estinzione l'unico tempio che attualmente rimane manicheo un tempio in Cina dove Manes viene riferito come il Buddha della luce quindi tutte le volte che si parla di questo Buddha della luce in realtà è Manes quindi viene riconosciuto come uno dei Buddha quindi questo processo che Manes portava era quello di creare una ritualità comunitaria in modo che ci fosse una continuità della coscienza della luce da quelle che erano le attività più legate alla terra fino addirittura all'alimentazione al fine di trasformare la vita umana in un mezzo di liberazione della luce intrappolata nella tenebra di Ariman quindi capite l'atteggiamento del persiano era avere paura diciamo ha dovuto adattarsi progressivamente a non avere paura della tenebra Manes che è appunto in una fase di maggiore coscienza e dopo il mistero del Golgotha affronta quello che è il male quindi affronta quello che è la paura di venire rinchiusi nella materia come una prigione in cui la coscienza viene dissolta ed anzi scende nelle profondità oscure della materia per liberare la luce che vi è intrappolata e insegna questo ai suoi discepoli da qui emerge anche diciamo quello che è l'espressione di guerriero della luce quindi coloro che non lottavano una lotta esteriore ma lottavano una lotta per liberare la luce imprigionata nella materia questo impulso manicheo quindi vi dicevo viene eradicato ma non completamente forse qualcuno di voi saprà che questo impulso poi passa dalla Persia e va verso l'Europa quindi passa attraverso i Balcani lascia dei suoi diciamo delle sue forme nel corso della storia e poi diventerà trasformato quello che è il catarismo soprattutto in Francia ma anche oggi abbiamo visto anche nel nord del d'Italia soprattutto ma non solo quindi l'impulso manicheo pur con delle caratteristiche trasformate verrà travasato nel catarismo questo impulso quindi che pensato originalmente era un impulso di trasformazione della materia diventa un impulso di formazione di comunità umane e allora chi sono coloro che in qualche modo in Europa quindi porteranno anche se in un'altra forma rispetto ai catari quello che è la formazione di comunità saranno due particolari ordini monastici sono i cistercensi e i templari questi due che avevano diciamo questi due ordini che avevano una sorta di tradugnon un un perno comune in Bernardo da Chiaravalle che è stata domani vedremo l'abbazia di Chiaravalle che è stato appunto colui che ha scritto la regola per i templari e ha permesso ai cistercensi di espandersi continuano con questo impulso dell'agricoltura seppure in una forma che è accettabile in seno a quella che è la chiesa cattolica diciamo la chiesa romana quindi quello che è è un impulso capace ancora di lavorare in grande nella società sapete benissimo che i cattari invece scegliendo una via molto più diciamo appunto loro venivano chiamati i puri quindi molto più dura e pura vennero fortemente respinti e anche i templari come sapete diciamo ebbero una un simile destino ma quello che si osserva è che da un lato si ha un diciamo appunto i guerrieri della luce diventano anche coloro che riescono a portare i monaci templari quindi monaci e guerrieri riescono a portare a permettere ai pellegrini di arrivare in terra santa quindi di creare questo scambio della coscienza del Cristo del portare il Cristo nell'Europa tra l'Europa e la terra santa quindi creano un ponte liberano dalla necessità per esempio di dover portare del denaro sono i fondatori del sistema del bancario in un senso più moderno e dell'assegno bancario quindi sono coloro che permettono la libera circolazione all'interno di questa rete che voleva portare la coscienza e la conoscenza del Cristo in Europa tra l'Europa e la terra santa saranno tra i collaboratori anche di quello che è diciamo la formazione dell'idea di Europa e dall'altro avete i cistercensi che formano comunità quindi si stabiliscono in un territorio abbiamo parlato delle bonifiche del territorio che sono state fatte nella pianura padana e in una buona parte collaborano anche i cistercensi che lavorano per trasformare quello che è l'elemento del diciamo della palude quindi di una zona non salubre quindi di una di un territorio che respinge quello che è la cultura umana la possibilità di fondare una comunità una civiltà lo trasformano e trasformano addirittura l'elemento diciamo malsano in qualcosa che nutre l'elemento sano la coltivazione stessa quindi questi due diciamo appunto ordini monastici templari e cistercensi raccolgono quello che era spiritualmente l'impulso manicheo quindi non li possiamo definire direttamente dei manichei ma sono dei continuatori dello stesso accorrente spirituale zaratustriana e la portano nella successiva epoca di cultura quindi qui nella quinta epoca di cultura che è la nostra attuale avete quelli che sono i templari e i cistercensi e qui arriviamo a noi i templari e i cistercensi quindi siamo nel dodicesimo tredicesimo e quattordicesimo secolo specialmente nel dodicesimo e tredicesimo quello che ha quindi appunto un cento anni dopo l'impulso di Manes l'impulso che porta Manes con la religione della luce questo questo momento è quello che prepara in effetti progressivamente ad arrivare alla nostra epoca di cultura la quinta epoca di cultura che comincia nel 1413 quindi nel 1413 si ha l'inizio di quella che è l'anima cosciente preparata appunto dai templari dei cistercensi l'ha chiamata anche la cultura europea e il loro sforzo sarà quello che farà nascere la cultura europea come vi dicevo i templari lavorano per la circolazione delle forze liberi in Europa e i cistercensi invece formano comunità che hanno la possibilità di scambio in Europa questo questa opera era volta soprattutto erano coscienti i templari di questo ad una futura epoca cioè la futura epoca in cui tutto quello che è appunto questo processo zaratustriano questo processo cosmogonico di zaratustra cioè la progressiva trasformazione delle forze della tenebra Ariman la materia le forze del signore di questo mondo vengano totalmente o pressoché totalmente trasformate in una nuova luce questo processo era quello che collegava i templari alla loro speranza dell'avvenuta del cosiddetto Giovanni Acquario il lavoro dei templari quindi che pure si colloca in preparazione della quinta epoca di cultura è rivolto alla sesta epoca di cultura quindi quello che chiamiamo appunto l'epoca russo-slava o era dell'acquario quello che i templari quindi volevano fare nel loro intento era quello di così come c'era stato un Giovanni Battista che aveva preparato il battesimo nel Giordano aveva permesso al Cristo di discendere in Gesù di Nazareth loro avrebbero preparato la via a quando il cristianesimo che ancora era immaturo e quindi tutta la questione diciamo della chiesa romana contro gli eretici oggi abbiamo parlato dei roghi piazza della vetra abbiamo parlato delle streghe e dei catari quello che avveniva era che nella maturazione della piena coscienza dell'impulso del cristianesimo si sarebbe arrivati ad un'epoca futura appunto l'epoca di Giovanni l'acquario in cui un nuovo Giovanni sarebbe venuto per preparare la venuta del nuovo maestro dell'umanità questo maestro dell'umanità sapete ha un nome è il Maitreya Buddha e così come appunto abbiamo avuto il Cristo quindi il verbo che diviene carne il Maitreya Buddha come viene descritto da Rudolf Steiner è la carne che si fa verbo quindi la restituzione di tutto quello che era l'impulso pre cristiano quindi zaratustriano passato attraverso l'azione manichea che sarebbe giunta finalmente ad una maturazione completa tanto che quelle comunità che Manes aveva fondato che erano comunità della religione della luce comunità quindi affratellate nello spirito sarebbero divenute le forme sociali principali di quella che sarebbe l'era dell'acquario che sarà l'era dell'acquario appunto del sé spirituale vi lascio questa immagine perché ora passiamo al cenacolo quindi se noi vogliamo collocare il cenacolo lo collochiamo poco dopo l'inizio di quella che è l'epoca dell'anima cosciente per darvi un un'immagine diciamo è che quello che voi trovate qui da un senso cosmogonico in un senso di processo di evoluzione della coscienza lo trovate in una forma pittorica completamente dispiegato nel cenacolo e quindi qui chiamo poi Gianni Bedolo quindi il nostro che ha preparato insieme a me questa visita della Milano esoterica alla luce segreta di Milano e che appunto abbiamo colto l'occasione per unire quelli che erano gli interventi riguardo ha lo zaratustrismo e il segreto della luce con quello che è il segreto della luce portato da Leonardo con il cenacolo purtroppo non siamo riusciti a inserire la visita effettiva del cenacolo durante il nostro tour di Milano di conseguenza l'occasione si pone per condividerlo con tutti voi qui quindi adesso mi aiutano a spostare la lavagna e farvi vedere nel cenacolo poi alla fine se ci sono delle domande ovviamente lo possiamo fare su tutto quello che ha la conferenza della luce segreta e del segreto della luce benvenuti a tutti sono felice di essere qua con voi che siate tutti qua questa opportunità di osservare il cenacolo anche se in un formato ridotto formato originale del cenacolo che è qui in Santa Maria delle Grazie è di nove metri di larghezza più di quattro metri d'altezza qui però spero che riusciate a vedere a cogliere alcuni particolari che andremo a a osservare nonostante le dimensioni ci sono un po' di chiaroscuro nel 1788 Goethe visita il cenacolo qui a Milano Goethe visita il cenacolo e dice abbiamo meditato il cenacolo e meditandolo lo abbiamo venerato quindi quello che cercheremo di fare sarà non di tenere una conferenza colta sul cenacolo ma di provare a entrare in stato di apertura percettiva di quello che un po' Leonardo ha voluto mettere in atto in qualità di uomo cosmico nel 1495 avviene l'incarico a Leonardo da Vinci da parte di Ludovico il Moro per dipingere questo capolavoro all'interno di Santa Maria delle Grazie Leonardo ci metterà tre anni completerà l'opera nel 1498 lavorando come ogni artista in certi momenti molto intensamente stava ore ore sul cantiere e andando qualche volta invece nel suo cantiere in Santa Maria delle Grazie stando cinque minuti tre minuti e poi andando via tutta la giornata diciamo tra gli aneddoti ne parla anche il Vasari tant'è che il priore dei monaci Domenicani di Santa Maria delle Grazie se ne lamenta con Ludovico il Moro Ludovico il Moro riprende Leonardo e abbiamo letto che Leonardo dice qualcuno sostiene che Leonardo dica che lui andava intorno per Milano per Milano quindi era lavoro anche quello e soprattutto quello a cercare dodici temperamenti diversi come minimo per riuscire a rappresentare i dodici apostoli quindi studiava facendo tantissime caricature schizze e disegni tutta l'umanità che incontrava cercando di capirne le differenze di temperamento e qualcuno sostiene che quando appunto viene sollecitato a fare in fretta Leonardo dice sto cercando appunto Giuda potrei usare il priore per fare più velocemente un'altra tesi interessante sostiene che Leonardo abbia usato come modello per il Cristo lo stesso modello anche per Giuda in un secondo momento della vita di quest'uomo o in un momento differente della vita di quest'uomo ed è questa l'ipotesi azzardata su cui proveremo a individuare qualche aspetto che potrebbe forse farci ancora vibrare se riusciamo un altro aspetto è che i frati dominicani del refettorio consumavano i loro pasti con davanti questa riproduzione Leonardo fa le immagini una volta e mezza più grandi rispetto a quello che è la dimensione l'altezza naturale dell'uomo proprio perché dal punto di vista prospettico la percezione era di condividere ogni volta l'ultima cena quindi ogni volta che i monaci mangiavano nel loro refettorio meditavano l'ultima cena come esperienza durante il restauro degli anni 70 viene scoperto che proprio qua c'era un chiodo nel terzo occhio più o meno e da quel chiodo Leonardo tira i fili per costruire una serie di linee prospettiche per lui quelle del soffitto e poi per comporre quindi la centralità della figura della figura di Cristo assolutamente evidente allora l'ultima cena è stata rappresentata da tanti artisti e la maggior parte di essi si sono ispirati come Leonardo al Vangelo di Giovanni che è il Vangelo che anche Leonardo quindi sceglie per rappresentare sulla parete del refettorio e il passo è questo io ve lo leggo detto ciò Gesù si commosse profondamente e dichiarò in verità in verità vi dico uno di voi mi tradirà i discepoli si guardarono l'un l'altro non sapendo di chi parlasse uno dei discepoli quello che Gesù amava si trovava a tavola al fianco di Gesù Simone Pietro gli fece un cenno e gli disse di chi è colui a cui si riferisce ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù gli disse signore chi è rispose allora Gesù Cristo è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò e intinto il boccone lo prese lo diede a Giuda Iscariota figlio di Simone e allora dopo quel boccone Satana entrò in lui Gesù quindi gli disse quello che devi fare fallo al più presto nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo alcuni infatti pensavano che tenendo giù dalla cassa Gesù gli avesse detto compra quello che ci occorre per la festa oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri preso il boccone Giuda uscì subito ed era notte parte questo questo pezzo del Vangelo che viene spesso citato con detto ciò per capire cosa vuol dire detto ciò bisogna passare un attimo alla frase precedente siamo sempre nel tredicesimo di Giovanni e questo ciò è detto del Cristo chi accoglie colui che io manderò accoglie me chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato questo colui che io manderò c'è uno sdoppiamento io che mando e un qualcuno che mando e c'è un accogliere ed è intorno a questo che proveremo a leggere questo lavoro anche allora l'altro aspetto è che si dice ed era notte ma se guardiamo la rappresentazione di Leonardo vediamo che la ruccia è gradi a dare tre finestre dietro l'altare della cena Leonardo rappresenta questa parte del Vangelo non nel momento in cui Giovanni appoggia l'orecchio sul cuore del Cristo come in tante altre rappresentazioni pittoriche ma poco prima quando Pietro lo sta disturbando rispetto al suo stato meditativo evidente per chiedergli chi quindi notiamo che c'è una serenità una serenità una centratura molto particolare nella figura del Cristo rispetto agli altri personaggi di questo dipinto e se vogliamo c'è un'espressione di serenità anche Giovanni ma la differenza è che il Cristo non è assolutamente disturbato da tutto ciò che accade intorno è centrato nella missione che sta compiendo e poi vedremo e Giovanni invece ha questa serenità ma è disturbato da Pietro in questo momento ci appare anche la particolarità che Giuda ha un volto scuro ha un volto più scuro ha una luce quindi che la luce arriva e si diffonde in quest'opera quindi ha un'oscurità interiore l'oscurità del suo mondo del suo buio interiore che si contrappone alla luce di Giovanni assolutamente e anche poi alla centralità luminosa del Cristo ognuno degli apostoli ha una reazione diversa alla dichiarazione di Cristo ma domanda che ci possiamo fare è perché Pietro deve far riporre la domanda a Giovanni non la può porre lui è lì perché Giovanni come viene indicato dopo può porgere la testa sul cuore di Cristo e farà proprio così poi a fare la domanda e ad ottenere la risposta lo si vede nei quadri di altri pittori che proprio rappresentano il momento in cui Giovanni poggia la testa sul cuore di Cristo quindi Giovanni è colui che abbandona la testa al cuore per porre le domande Pietro invece è ancora nel far prevalere la testa sul cuore non può chinare completamente la testa al sentire del cuore e gli apostoli in tutta questa in questo momento drammatico appaiono tutti animati e in preda alle loro passioni ai loro pensieri alle loro muoversi anche fisicamente nello spazio mentre Cristo è in una posizione di presenza trascendente il Cristo pone a Giuda il boccone di pane intriso nel vino il pane intriso nel vino il pane è fatto col grano è luminoso la parte di spighe dorate che maturano a giugno e il vino è dionisiaco tutti i rituali bacchico dionisiaci sono a base di vino sono quindi la componente appollinea e dionisiaca che caratterizzano l'incarnazione umana ma quando intingo il pane nel vino li confondo l'eucarestia che insegna il Cristo è prese il pane poi prese il vino mentre invece nel caso di Giuda intinge il pane nel vino quindi mescola come spesso fa la vita ci mescola l'apollineo di olisiaco ce li dà separati sarebbe più comodo quindi quando quando li mescolo quando li confondo come fa Giuda tradisco me stesso tradisco l'io sono perché perdo la capacità del discernimento non so più distinguere ciò che è appollino e ciò che è dionisiaco non c'è qualcosa di sbagliato in sé nell'apollineo o qualcosa di sbagliato in sé nel dionisiaco c'è qualcosa di sbagliato in me quando non so distinguere l'uno dall'altro e non mi prendo quindi le responsabilità di come sto operando e di con che cosa sto operando a questo punto cosa nasce in Giuda una delle qualità del tradimento il giudizio a questo punto lascio spazio ai giudizi e il giudizio non è il discernimento quindi non giudicare non significa non saper discernere altrimenti tanti dicono se non giudico come faccio difendermi no giudicare è diverso dal saper discernere quindi non saper discernere viene sostituito facilmente dal giudicare proprio perché c'è una paura la paura di non saper discernere ed è una paura più che fondata è difficile separare il pane dal vino bisogna continuare a lavorare in alchimia si dice solvete coagula reiterare l'operazione questo è continuare a separare e a capire e poi a rimettere insieme perché la vita tiene insieme separa quindi si separa per comprendere poi si rimette insieme per vivere e quindi questa paura viene spesso risolta col giudizio diventa un bisogno di giudicare per non sentirla quindi giuda è posto di fronte agli ultimi alzi del signore il signore sta prendendo una certa piega è diventato il Cristo quindi sono gli ultimi tre anni quindi sta facendo capire che ci sarà un sacrificio per questo che tutti Paolo reagirà in un altro modo poi vedremo tutto questo quindi si profila questo e giuda di fronte a ciò non sa più discernere non sa più se è bene o se è male fino a un certo punto per lui la vita del Cristo era tutta ok andava tutto bene cioè condivideva tutto e aveva le idee chiare all'interno di quella che era la sua struttura della personalità a questo punto invece il signore Cristo richiede un salto qualitativo dell'essere ad ognuno dei suoi discepoli quindi come fa giuda per uscire da questa angoscia lo giudica lo vende così si libera momentaneamente dalla paura così è come l'umano che posto di fronte all'agire della sua anima che va nella direzione spirituale quando molla le sue dinamiche automatiche si spaventa ha mille dubbi sono più comode le dinamiche automatiche i pregiudizi preferisce quindi di gran lunga l'essere umano tenere sotto controllo attraverso i pregiudizi tutto il suo sistema di personalità che si è costruito ma in tutta questa paura che non viene soppressa nonostante giudizio e quando le cose sono fatte giuda ritorna nella paura e quindi ed era il buio ed era notte giuda non intravede quindi il sole nel cuore della notte il sole nel cuore della notte di cui parla iniziato a puleio nell'asino d'oro giuda perde il contatto con il suo punto di luce interiore oggi siamo stati a santo eustorio abbiamo visto la stella che guida i magi la stella che guida i magi è il punto di luce nel sufrismo ad esempio è il punto di luce di ogni essere umano guardano i sufi dicono c'è una stella la tua quella la tua guida cercala sono tante però c'è questa è la confusione di giuda diciamo sono così tanti sbaglierò sicuramente non è la mia ho preso quella di un altro in questa notte quindi giuda perde il contatto con il suo punto di luce interiore e tradisce la sua anima la sua parte spirituale la sua essenza tradisce quindi anche chi per lui rappresenta e alimenta il suo io sono il suo punto di riferimento dell'io sono di sconseguenza quando ha tradito la sua essenza non può che morire anche nella personalità perché la personalità è una brutta coppia dell'essenza e non esiste senza l'essenza è un'idea di sé l'idea di me non è la mia anima la mia anima è una cosa l'idea di me è quello che costruisco la mia anima rimane l'idea di me posso andare a smontarmela in tante vie scuole iniziatiche se sono fatte bene e quindi Giuda finisce per impiccarsi per eliminarsi anche materialmente quindi Giuda si pentirà anche del proprio atto di aver giudicato ma ha una mano che si attacca eh alla borsa con i 30 denari che è l'oro materiale e perché? perché l'oro materiale è più facile da riconoscere da l'oro spirituale e quindi lì ha meno dubbi ha meno paura può giudicare meno infatti l'altra mano cerca in qualche modo adesso non so se vedete se qualcuno vede può avvicinarsi a venire a vedere se qualcuno ha dei dubbi ah sì sì beh Giuda è questo eh questa è la mano che tiene i denari e questa è la mano che si eh e questa è la mano del Cristo eh e in mezzo ci sono le mani di Giovanni adesso poi ci arriviamo eh e la mano di Giuda è più o meno così sta facendo così e Cristo sta facendo simmetricamente così eh c'è un campo e in mezzo ci sono le mani di Giovanni che sono intrecciate eh un dito intrecciato all'altro proprio ma l'azione del tradimento di Giuda e qui siamo al mistero del male eh dà la possibilità al Cristo di compiere il suo sacrificio e quindi benedire la terra attraverso il mistero del Golgotha se Giuda non lo tradisse lui non compierebbe il suo sacrificio cioè il tradimento nell'essenza l'essenza tradita da parte dell'ego è un passaggio necessario è necessario perché la nostra natura essenziale possa risvegliarsi e sacrificando il sonno a surgere a gradi di conoscenza superiori quello che viene indicato qua sono sei Cristo diventa sette sono sei di là Cristo diventa sette Cristo richiede di salire di un'ottava mettendosi in mezzo facendo il settimo che fa salire di un'ottava sia gli uni che gli altri sia quelli segni di luce sono questi sia i segni di ombra che sono quelli tutti sia gli uni che gli altri quindi il tradimento del proprio io genera la personalità attraverso la quale potremo così morire non l'abbiamo riconosciuta e risorgere nell'essenza Leonardo dipinge Giovanni mentre quindi ascolta la richiesta di Pietro abbiamo visto che vuole sapere chi è il traditore Pietro lo vedete no? è qua e mette una mano sulla gola di Giovanni Giovanni è evangelista del verbo oltre che apostolo Giovanni quindi porta l'attenzione sulla gola le mani di Giovanni sono in mezzo tra come ho detto prima la mano di Giuda e la mano del Cristo che in qualche modo tendono l'una verso l'altra le mani di Giovanni abbiamo detto sono incrociate Giovanni ha un'espressione assolutamente meditativa gli occhi sembrano proprio chiusi in uno stato meditativo cosa vuol dire Giovanni davanti a questa esperienza del tradimento sta reagendo entrando in profonda meditazione quindi ha la qualità dell'iniziato che davanti a una tematica drammatica invece di agitarsi cerca di meditare l'esperienza così come invece Goethe va a meditare la piacevolissima esperienza di un'opera d'arte quindi che sia un'esperienza piacevole o spiacevole nel processo ad esempio indicato a livello buddista dell'equanimità la richiesta di meditare l'esperienza permane un altro aspetto interessante è che adesso questa questa parte di Giovanni è un po' sbiadita ma questo è un rosso quindi vedete che Giovanni e il Cristo hanno il blu e il rosso solo che sono complementari quello che è sopra è diventato sotto quello che è sotto è diventato sopra quello che era adesso è diventato sinistra e quello che è sinistra è diventato destro e infatti Giovanni poi troveremo il segno della bilancia cioè rappresenta il segno della bilancia nell'ambito della rappresentazione zodiacale dell'opera cosmica in sé il primo volto che incontriamo invece alla sinistra del Cristo è il volto di Tommaso Tommaso qua Tommaso sta indicando il cielo il volto la mano no la mano invece è di Matteo Tommaso indica il cielo di fronte al mistero del Golgotha il mistero del Golgotha è di morire e di risorgere quindi Tommaso cosa indica l'origine celeste dell'io sono perché solo attraverso la coscienza della nostra origine celeste possiamo avere il coraggio la forza di accettare veramente di morire in qualche modo e di risorgere perché se ci pensiamo esclusivamente terrestri non riusciamo quindi ricorda questo ad un certo punto del Vangelo di Giovanni Cristo dice a Giuda quello che devi fare fallo però fallo presto e forse intende fai presto a compiere la morte e la rinascita non perdere tempo in questa breve vita fallo subito non perdere l'occasione che questa incarnazione ti permette probabilmente quello che si sono detti per millenni tutti gli aspiranti iniziati gli iniziati diciamo ah per non l'iniziatore la prossima vita e così è andata e quindi Gesù che è il maestro dice fai presto il suicidio di Giuda è anche il morire del vecchio modo di essere per lasciare un posto per lasciare il posto a un nuovo modo di essere se ciò che tradisce quotidianamente il mio essere non muore il mio essere il mio io sono non può risorgere questo questa il titolo che c'è sotto questo sopra questo passo del Vangelo è il traditore viene svelato nelle edizioni classiche della Bibbia Paolino il traditore viene svelato cioè c'è un traditore quotidiano interiore nell'umano un sabotatore un giuda che nella quotidianità ogni giorno mi tradisce un po' e qui finalmente il Cristo crea una situazione drammatica dove dice adesso svelerò il traditore che c'è in ognuno di noi e come giuda è attaccato ai suoi 30 denari cioè la materia l'oro materiale si tradisce lo spirito che stanno attaccato all'oro cerca lo spirito con una mano ma resta ben ancorato con l'altra i 30 denari Pietro invece è attaccato al suo coltello che è qua che sembra un po' anche il pungiglione posteriore di giuda che è segno dello scorpione il coltello di Pietro però va in questa direzione va verso la direzione perché Pietro non sa chi è quindi lui è pronto col coltello pronto a a vendicare subito chi vuole tradire il suo maestro ma essendo in preda alla passione è impulsivo e ha fretta di agire suo fratello è Andrea è qua e alza le mani tutte e due da una parte fa vedere la sua purezza e dall'altra è quasi minacciato dal coltello di suo fratello quindi cosa sta facendo Pietro sta facendo l'errore di Caino sta ripetendo l'errore di Caino uccido il fratello perché è in preda è il temperamento in preda alla passione e al voler agire tempestivamente voglio subito saperlo ma mentre voglio saperlo già sto per e così uccide il fratello questo accade anche a volte in ambienti iniziatici che qualcuno ha questa fretta e poi finisce così quindi la passione non fa vedere bene chi ci ama non ci fa discernere e ci fa rischiare di uccidere chi invece tutti gli apostoli hanno gli sguardi che sono rivolti o al Cristo o ai loro confratelli della comunità prima parlavamo dell'essere di comunità adesso qui è la comunità siamo nell'epoca della comunità la comunità che inizia il Cristo invece ha lo sguardo guardo guardo che va così qua più o meno guarda giù il piatto del Cristo è vuoto perché l'agnello sacrificale è lui è lui l'elemento della transustanziazione ma soprattutto sotto il piatto c'è il tavolo il tavolo appoggia per terra quindi il Cristo ha lo sguardo che guarda alla terra l'essere del sole sta per diventare l'essere della terra la consapevolezza dell'essere che si incarna nella terra quindi l'anima cosciente che entra nel corpo fisico dell'uomo in modo pieno questo è l'esempio che dà il Cristo all'Apostolo la mano destra del Cristo che ha il manto rosso sta nel dare abbiamo visto e la sinistra sta nel prendere è così è quest'altra la ve le faccio vedere perché magari da là non so se lo vedete da là un po' fatica infatti per quello che cerco di la necessità di dare alla propria personalità la necessità di dare a ciò che siamo qua oggi la possibilità di agire sulla terra mentre contemporaneamente prendiamo le pure forze cosmiche dal cielo questo sta facendo il Cristo sta agendo sulla terra sta entrando in relazione con l'uomo con Giuda il peggiore degli uomini della compagnia mentre sta continuando a stare connesso con le forze pure cosmiche non ritira la mano dal vivere quotidiano e se sta nel vivere quotidiano non ribalta la mano rispetto non si stacca dalle pure forze cosmiche riesce a sentirsi puro nonostante la sua declinazione nel mondo materiale chiaramente fa uno sforzo un grande sforzo fa un sacrificio Cristo fa quindi scendere la luce dello spirito del sole nella profondità della terra nella materia come? attraverso se stesso cioè quello che prende da qua lo fa girare qua dentro e lo ridà qua attraverso se stesso allora abbiamo visto soprattutto il Cristo e abbiamo visto questa qua che è gli apostoli sono divisi in gruppi di tre come avrete notato eh eh sono quattro triadi e la triade che abbiamo visto abbiamo preso in considerazione la triade più importante chiaramente quella di Giovanni del traditore e di Pietro ma partiamo adesso a vedere gli altri allora Simone Simone è qua ed è la riete è la riete questi sono come diceva prima Giorgio i segni più luminosi e quegli altri eh quindi ed è la sequenza eh quegli altri sono più legati alla tenebra allora cosa fa Simone se guardate Simone ha le mani che vanno in avanti quindi lui apre l'azione Leonardo scriveva anche da destra verso sinistra apre apre l'azione e porta porta avanti quello che ha sentito la riete e cosa e cosa fanno a parte combinare tutta questa reazione diversa cosa ci fa vedere Leonardo perché è andato a studiare i tipi psicologici in giro per Milano per tre anni più o meno perché ci vuole far vedere come queste strutture psicologiche questi temperamenti umani reagiscono al tradimento non al tradimento di Giuda al tradimento in assoluto all'autotradimento dell'io sono che ogni uomo compie in se stesso quindi la riete cerca di spingere fuori il tradimento è in là domanda in là quindi passa il testimone a Taddeo Taddeo è questo che è un fianco Taddeo è il toro e Taddeo il toro rumina lo ruminante se lo rumina e quindi lo fa risuonare calorosamente dentro di sé il toro caloroso quindi il tradimento se lo lo appesantisce si fa appesantire dal tradimento Taddeo Matteo invece Matteo è qua è dai gemelli ha due mani che fanno così cosa sta facendo due cose contemporaneamente fanno i gemelli da una parte parla con loro e dall'altra fa andare via il tradimento quindi i gemelli lo spostano il tradimento magari qua c'è qualcuno che si riconosce non riesco a intoridere quindi Matteo accoglie i contenuti di Simone e Taddeo e li porta con il gesto delle mani estensioni del cuore sono alla triade opposta alla successiva riesce a fare mercuriale riesce a fare più cose Filippo invece porta le mani al suo petto forse questo lo vedete qua così Filippo è cancro porta le mani al suo petto e pone la domanda del tradimento nella sua interiorità nell'acqua emotiva del cancro potete immaginare un cancro per quanto tempo quanto tempo ci mette a rispondersi cioè il cancro la domanda la pone in sé cioè questo è questi sono proprio i temperamenti Leonardo ci fa vedere sì beh certo se c'è c'è una colpa è mia Giacomo Maggiore invece lì siamo nel leone lo vedete lì forse anche da lontano questa macchia gialla questo petto enorme e Giacomo il maggiore anche no quindi espande il petto a voler mostrare come la sua veste gialla e luminosa non possa celare i tradimenti quindi cosa c'è il leone si indigna e si espande ma sono sempre modalità diverse da quello del Cristo da quello del Cristo di stare nell'esperienza di essere nell'io sono Tommaso indica il cielo con una mano e con l'altra si avvicina quasi a toccare il Cristo però non lo tocca si avvicina quasi con il suo temperamento logico e analittico una vergine rimane quindi sempre con un'espressione interrogativa di fronte al Cristo perché se non lo tocca non lo sa se c'è o no però non lo tocca per dire che non c'è la vergine cosa fa quindi rispetto al tradimento cerca una logica del tradimento e quindi scapcia reagisce in qualche modo non riesce a integrarlo più di tanto perché ne cerca una logica il Cristo sole invece prende dal cielo e dalla terra volgendo lo sguardo alla terra accoglie il tradimento come uno degli aspetti legato al mistero dell'origine del male Giovanni ascolta la domanda inquieta di Pietro proprio inquieta e volge lo sguardo sereno al volto oscuro di Giuda bilancia sta in mezzo ai due ed è della bilancia infatti Giovanni in questa struttura quindi la bilancia di fronte al tradimento cerca di portare l'equilibrio c'è lo spostamento della luce come diceva Giorgio si trova in questo spazio dove come dicevi tu sta tra quelli quando finiscono quelli di ombra incominciano quelli di luce e quindi per sua natura Giuda si attacca alla materia un sacchetto coi 30 denari e si avvicina allo spirito in qualche modo ma non lo afferra assolutamente come invece afferra la materia lo scorpione l'aculio cui accennavo prima dietro quel coltello di Pietro che diventa l'aculio di Giuda quindi lo scorpione lo scorpione dà forma materiale al tradimento dice ok sono io il traditore tradisco me stesso mi uccido questa è la reazione violenta immediata materiale del temperamento dello scorpione rispetto al tradimento Pietro porta la mano alla gola di Giovanni ma con l'altra tiene mano al coltello porta Giovanni è assolutamente sereno è il Vangelo cioè l'Evangelista del Logos del Verbo e Pietro è un sagittario quindi vuole elevarsi dal tradimento e vuole cascarci al tempo stesso ci casca col coltello perché tradisce suo fratello Andrea cerca di ucciderlo in qualche modo e intanto vuole però sapere comprendere vendicare rinnegare sì rinnegare rinnegare è il modo diverso lui tradisce e lui rinnega l'io sono quindi lui tradisce se stesso e sagittario invece rinnega se stesso continuando a oscillare tra questi due atteggiamenti il volere il volere elevarsi dal tradimento attraverso la verità e il voler cascarci Andrea alza le mani in segno di resa di fronte al coltello del fratello Pietro come il capo respiatorio come fa l'animale quando gli puntiamo coltello l'animale diciamo quello capo respiatorio non l'altro che c'è mangia e infatti è un capricorno e si arrende all'esistenza del tradimento come il capo Cosmi Giacomo Minore con una mano tocca Andrea e con l'altra tocca Pietro che sono i due fratelli questa è una mano con cui tocca Pietro e con l'altra sta toccando la spalla di Andrea questo è Giacomo Minore ed è l'acquario l'acquario che va oltre le relazioni tra tricide e sangue l'acquario di cui parlava Giorgio dell'età dell'acquario quindi l'acquario come reagisce al tradimento cerca di creare relazioni dove c'è distruzione fate conto che questi temperamenti che descrive Leonardo non sono di per sé giusti o sbagliati è una questione di quantità cioè ad esempio vi faccio un esempio un acquario può cercare di creare relazioni dove c'è distruzione ma può eccedere in questo cercare e quindi fare più disastro del disastro che c'è già quindi è sempre la misura che stabilisce ed è nel dare sì la misura nel darsi questo equilibrio questa equanimità che fanno fatica gli apostoli nel loro temperamento l'ultimo Bartolomeo è lì che guarda quasi incredulo è lì in fondo che chiude tutta la scena il Cristo si appoggia con le mani alla tavola sono qui cosa sta succedendo ed è la stessa tavola a terra a cui guarda il Cristo quindi cerca di tenere insieme tutto ciò che sta percependo Bartolomeo i pesci quindi il pesci cerca di percepire e contenere contenere il senso del tradimento questo è un po' quanto particolare che uno dei pochi lavori in cui non sono state disegnate le aureole in altri quadri ci sono tali al quali i critici sostengono che Leonardo fosse talmente orientato ad aver interpretato questi temperamenti che non sente il bisogno di queste aureole e vuole anche proprio dare una visione cosmica dell'umanità e quindi dove è l'uomo può elevarsi anche tutti quanti in questa relazione diretta con la cosmicità e non mediata dal simbolo poi a voi se avete domande o osservazioni se vi riconoscete quindi per il momento grazie per l'ascolto grazie 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 vedete vedete la luce lato di luce e lato della tenebra con proprio il perno che fa cambiare l'equilibrio tra tenebra e luce in Giovanni quindi è lo stesso processo di cui abbiamo parlato prima nell'ambito dell'impulso di cultura dato da Zaratustra poi trasformato dal maniteismo e poi successivamente dai tentari dei Cisacenti possono fare domande questa conferenza trovate caricata sul nostro canale YouTube quindi se volete rivederla da una mattina si possono fare domande grazie 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 si possono fare domande ho finito un orario decente dai aspettavo peggio beh non devi farlo parlo io grazie grazie